Leonora Garzia, ci spieghi in cosa consiste questa proposta innovativa che avete presentato oggi? Sì, io come portavoce del Circolo Cittadino di Vicenza rappresento tutto il circolo e abbiamo lavorato su una proposta che tende alla valorizzazione dell'enogastronomia vicentina, cercando di creare sinergie e una rete di contatto tra i ristoratori, il Comune di Vicenza e tutti gli operatori del settore enogastronomico. Ecco, porterete questa proposta al Sindaco Rucco? Sì, porteremo questa proposta al Sindaco Rucco ufficialmente, sperando che venga accolta da tutta la Giunta e dal Consiglio e che ci sia la creazione di questa rete tra ristoratori e tra esercenti. Grazie. Grazie.